Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. E' tutto pronto per la nuova puntata di Like Ossin Tour. Domani saranno accesi i riflettori su Senerchia per mostrare in diretta su Prima TV le tradizioni, la storia e le tipicità di questo piccolo comune erpino. Tra i più suggestivi dell'alta valle del Sele della provincia di Avellino è noto anche per l'oasi naturale della Valle della Caccia. Nuovo appuntamento dunque domani dalle 11 alle 12.30 con l'Aikos. La trasmissione di successo di Prima TV e Tele Nostra nata per valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, le attività produttive e il patrimonio artistico-culturale dei nostri comuni raccontati nella cornice umana della gente di Urpinia. Durante la diretta spazio ovviamente ai prodotti tipici e all'enogastronomia locale e non mancheranno momenti goliardici e di curiosità con i protagonisti della comunità della Valle del Sele. Dunque, non perdete l'appuntamento di domani con l'Aikos in Tour in diretta da Senerchia dalle ore 11.00. Potete seguirci anche via streaming sul sito www.primativ.it e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Tele Nostra.